Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, capace di raccontare un passato ancora attuale, in cui possiamo leggere in controluce e forse decifrare, un passo alla volta, il presente in cui viviamo. La trama del libro La Condanna, dello scrittore Walter Veltroni, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, è la seguente. Giovanni ha 24 anni e ha coronato il suo sogno, quello di lavorare nella redazione di un quotidiano. Intorno a sé, però, ha soltanto colleghi più anziani, ormai apatici, storditi da un mestiere sempre più in crisi. Tranne uno, Sergio Fabiani, caposervizio della cultura, che gli affida il compito di scrivere un pezzo su Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Celi, linciato in modo selvaggio dalla folla nel settembre 1944. Il giovane giornalista si immerge allora nella ricerca e nello scavo. Sotto la guida paterna di Fabiani, Giovanni ci porta sui luodi che furono teatro del fatto, il palazzo di giustizia. Il tevere, Regina Celi, ci mostra le testimonianze di chi quel massacro l'ha visto e documentato, e ce lo restituisce in un racconto vivido, crudo, reale. Chi era Carretta? Un fascista o un antifascista? Oppure uno della zona grigia? Con la precisione del reporter e l'abilità dello scrittore, Giovanni ricostruisce la storia di una condanna controversa, brutale, di certo ingiusta. Indagando le pulsioni e la rabbia che agitano la folla di quel settembre 1944 rivede, nella Roma liberata dal fascismo che si muovono, velenosi, nelle relazioni di oggi, nella comunicazione, sui social. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.